Arriva il Natale e insomma anche quest'anno a Dischia un bel po' di sano divertimento non mancherà dando un'occhiata un po' a quello che è il cartellone, la prima cosa che salta agli occhi che siamo davanti a un qualcosa di estremamente variegato, come si dice in gergo dagli 0 ai 90 anni poi è chiaro che soprattutto per i bambini e per coloro che non sono mai cresciuti quindi gli adulti rimasti bambini, la pista di ghiaccio e il bosco incantato sono sicuramente due novità che vanno per la maggiore Sì, sono alcune delle novità di quest'anno, abbiamo cercato di dare un input diverso per queste feste natalizie, non solo natalizie, facendo un cartellone un po' più di qualità e cercando di rendere un po' più vivo il paese in questo periodo soprattutto per le attività commerciali e anche per le attività alberghiere che rimarranno aperte, che vanno incentivate il Comune ha cercato di dare il suo contributo per risollevare un po' anche le sorti del paese è solo un inizio questo, è solo un piccolo assaggio di quello che noi ci prefiggiamo di fare in questo nuovo corso, anche come nuovo assetto amministrativo e digiunta Sì, perché sono convinto anche io personalmente che in questo momento in cui la crisi imperversa e dove molte aziende sono in crisi vada rilanciata anche per quanto è possibile con quelle poche risorse che ci sono rimaste a dimostruzione ma anche con i programmi vada rilanciata l'economia perché se non si rilancia l'economia le tasse ci sovrastano e alla fine non rimarrà altro che una crisi profonda che ci farà sprofondare tutti Ci aspettiamo una bella risposta anche quest'anno dall'utenza turistica che diciamo nell'ultimo decennio ha guardato ad Ischia con sempre maggior interesse secondo te perché è una località comunque di mare conosciuta nel mondo per il sole, per tutte quelle che sono le prerogative legate all'estate e sta cominciando a fare breccia nel cuore soprattutto degli italiani anche in questo periodo di bassa stagione qual è quello di passaggio dall'anno vecchio al nuovo se dovessi darti una risposta Hai detto bene, sta incominciando perché il lavoro a farsi è ancora notevolissimo Ischia ha molto molto più da offrire in questo periodo e la destagionalizzazione, l'allungamento della stagione turistica deve essere uno dei primi obiettivi sono ancora troppo pochi gli alberghi che rimangono aperti in questi periodi dobbiamo incentivare anche gli altri e soprattutto anche le attività commerciali a prolungare le loro aperture e il comune in questo può fare tanto noi ci dobbiamo prefiggere proprio questo obiettivo Ischia di offrire tanto, se tu vai un po' girando anche nei siti ti accorgi che anche località che non sono propriamente a vocazione turistica invernale per esempio con i mercatini di Natale o altre questioni si stanno approssimando ad allungare la stagione turistica noi non ci dobbiamo far precedere, siamo ancora molto lontano da questo obiettivo dobbiamo lavorare ancora molto dobbiamo lavorare ancora molto